Sono stato invitato a questo incontro Yamaha, noi da sempre seguiamo i prodotti Yamaha, abbiamo avuto modo di provare mixer Yamaha, avevamo il PM5D, abbiamo avuto diverse occasioni di lavorare con questo. Noi facciamo soprattutto live, ma anche corporate, anche piccole convention, grandi convention, tutte le dimensioni, per cui dal concerto della grande rock star al piccolo evento, per cui spaziamo un po' a 360 gradi. È stato molto interessante avere anche l'opportunità di vedere in questo ambiente moto e audio insieme. Io poi oltretutto sono un motociclista da tutta la vita, per cui amante di questo genere di moto giapponesi e non, per cui mi appresterò presto a fare una prova anche sulla moto, ma è stato molto interessante anche quello che ho visto dal punto di vista audio, perché sono i nuovi prodotti che le Yamaha si è fatte un po' aspettare, però alla fine qualcosa è uscito di interessante.